E queste sono 5 statui di Cristo sorprese a muoversi parte 2, comunque anche in questo video avrete la possibilità di vincere uno spin, per vincerlo dovete lasciare un like e condividere questo video, iscrivervi al canale e infine commentare con partecipo, in ogni caso tutte le regole in descrizione, adesso direi di incominciare subito con il video. In questo video registrato in Messico durante una celebrazione religiosa accade un avvenimento davvero assurdo, infatti improvvisamente la statua di Cristo apre gli occhi, vediamo subito questo momento abbastanza inquietante. In questo video registrato il 12 dicembre da un teorista in Messico si può chiaramente notare la statua di Gesù che apre e chiude gli occhi e muove la bocca come se volesse parlare con la persona che stava registrando il filmato, davvero inquietante. In questo video registrato sempre in Messico durante una manifestazione religiosa troviamo una statua di Gesù che prima alza la testa e poi la abbassa, vediamo il momento. In questa clip ambientata in India troviamo una folla di credenti attorno a uno stato di Cristo, infatti un buon numero di pellegrini aveva affollato un villaggio indiano per andare a bere l'acqua che proveniva da uno stato di Cristo. La statua quindi versava delle gocce d'acqua che per i credenti era acqua santa, per alcuni credenti invece addirittura si trattava di un vero e proprio miracolo. Vediamo questo momento. In prima posizione troviamo un video registrato in Messico da uno spettatore durante una celebrazione religiosa. Comunque questo filmato abbastanza inquietante mostra la statua di Gesù che muove la testa, vediamo. Grazie a tutti.